Ho cercato un'immagine di riferimento e ora sto provando a modellare il corpo in base all'immagine e poi potrò lasciare sia questa sculturina in alluminio sia utilizzarla, provare a utilizzarla per dare la forma al ghiaccio. Ecco come lo sto montando. Preparo i vari pezzi e poi per assemblarli ci metto sopra un altro pezzo di sagnolo e lo modello. Cercando poi di dargli la forma. Cercando poi. Grazie a tutti. 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 Non avrò lavoro troppo, lo rendo solo un pochino più morbido e fino, faccio una specie di sfoglia e poi semplicemente vado a appoggiarlo sul pezzo e con le dita e poi faccio aderire e fondere in parte il resto dei pezzi che ho già messo. Intanto voglio chiuderla, poi vedrò se devo regarla o se devo regarla ulteriormente. Non è un'opera d'arte ma adesso lo lasciamo asciugare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.